Benvenuti a tutti, questa è tu per l'u Salve a tutti i ragazzi dello streaming Nel momento è il momento di fare un gioco Il mimo Mimare delle azioni Non è che mimiamo delle azioni normalmente È tipo marionetta, cioè una persona che controlla l'altra Esatto Tipo questo è Chignacanto Maschi contro donne Noi decidiamo quello che devono mimare loro E loro decidono quello che dobbiamo mimare noi Come al solito, prima di signore Allora Aspetta, aspetta Dai che ce la fai fare Aspettare No Sono bonta, aspetta un attimo La serenza A lingui Sì B.J. B.J. Nooo 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 Ma dove? Ma perchè sempre lì? Adesso la motta è morto Sempre lì Ehm togliasi le mutaglie No Pazza questo è super bello Posa con il corpo Non si parla più le mani Non si fotta dai Allora aspetta Però togliersi le mutaglie non è Allora Aggiungi qualche cosa forse Nooo Cambiarsi l'assorbente L'avessi capito però bastava il gesto Bastava il gesto Allora Quello che penso io Potrebbe essere quello che penso Toccarsi Sì Nooo Cos'è questa cosa? Innaffiare occhi chiuse Aspetta A Capire un orgasmo? Nooo Nooo no no Ah! Polluzioni noturne! Era particolarmente complente Nooo Senza bisogno e poi lo butti Bla 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 Ricordate a mimare è molto più facile che da fare a mimare Allora Cos'è? Allora Ma le pancia Allora Mostrate allo streaming Cosa sarete? Cosa sarete? Spalando via Dai Ma cosa vuol dire? No non è quello È così Schiaffi sto sedendo Non è lo schiaffo Non è lo schiaffo Non è lo schiaffo Pannolone Stai lì Resisti E' quello tipo Nooo Nooo Lemon Riding Cacchio Grande Io non so come se quello Non è un lemon ride Imparare Accende il scherzo di nuova Il televisore è rotto e non si accende Oddio Scervellarsi Idea Idea geniale Attaccare la spina per accendere il televisore Accendere l'antenna Attaccare l'antenna del televisore Ok ora funziona Aspetta Avere un'idea Farsi venire in mente di attaccare la spina per accendere il televisore Capire che intenzione la spina No Presa di corrente Antenna Attaccare l'antenna Sistemare l'antenna Aggiustare l'antenna No capissimo Aspettacolo C'è un problema C'è un problema C'è un problema No no Siapò Siapò perchè è veramente la faccia di vista Non è quello Buono Buono Cos'è? Darsi il rossetto o no? No Aspetta Porta Mangiare Mangiare Deve essere così Cioè puoi modificare Come io prima lo dico Si C'è mangiare Allora mangiare c'è mangiare Mangiare? Devo mangiarlo? Eh Non devo mangiare Due E' proprio una zotta Cioè Ozzin 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 Un gelato Mangiare il gelato Mangiare il calippo Uhhh Un altro che mi fa di dire E' uno No E' due Aiuto Dio Che roba Accarezzare C'è Un cane? Gatto Il mio cane Gatto Ok Mi piace Beh Mi dà la ragione Ok Gatto Si Lo butto via Non ci interessa più il gatto Ah E' la lettiera La lettiera Pulire la lettiera Si Vabbè Vabbè Cioè Manco cosa sono sai? I pizzocchi No Ahahahah E' tutto I pizzocchi I pizzocchi E' tutto I pizzocchi E' tutto I pizzocchi Cosa si chiamano? Le pillole Le pastiglie Le 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 La chetamina La 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 metafetamina Vabbè dai L'LSD No no Che è che dai 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 Vincinare un fetamine Grande Pondina Uhhh Impossibile E' la più difficile della storia Il cuore Io Cinese Indiano Kickbox Karate Judo Matrix Cinese No Cinese Ma Affettare No ero io Io Tagliare Tagliare Un cinese Vabbè No Assomigliare No Un cinese Che tagliare Io Che cazzo sono? Un cinese? No Assomigliare a un cinese Che tagliare? Quasi Quasi Cinese Cinese però sbagliato Ehh Giapponese Thailandese 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 che cucina Cucina Thailandese No No Sushi Cucina Thailandese Mescolare No Io Cucina Thailandese Cucinare Thailandese Cucinare Thailandese Cucinare Un ristorante Thailandese E' il verbo diverso Ah Ehm Ehm Cucinare Dai Dai Ma che scusate ma è la stessa cosa Ah no Perché non hai cucito Ah vabbè dai Dai Ah perché se perché avete dato buona vetamina va bene Era Preparare Cibo Thailandese Cibo Thailandese No Aspettiamo i vostri commenti Insomma Quelli sono quelli che contano E poi magari se ci volete dare degli azioni da fare Bellissimo Per la prima volta Scriveteci Noi le mettiamo in un cappello Che ne so Le peschiamo E saranno a caso Dai Magari ragazzi Difficilissime Però devono essere Difficili eh Davvero difficili Dai E' semplicemente che sembrino scocci Ahahah Ciao 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 Benvenuti a tutti questa Tu per lui Ciao Ciao